Per me stare in cucina insieme con i bambini è una gioia, quindi poi è stata un'esperienza veramente bella e positiva, ringrazio Città dei Bimbi e anche il mio collaboratore. Eccolo qui, il collaboratore di Rosanna, ovviamente i panzerotti erano buonissimi, quelli di prima e quelli di dopo, e quindi ovviamente speriamo di ripeterci con i muffin e con tutti gli altri laboratori. L'idea di Asterischi di Gusto è questa qui, mentre i bambini con i food blogger fanno laboratori di cucina, i genitori possono ascoltare delle presentazioni di libri e quindi mangiare in qualche modo anche loro, far mangiare in questo caso la mente e il cuore, poi tanto assaggeranno i piatti preparati dai loro piccoli. Grazie.